Bene, anch'io vi ringrazio di essere qui questa sera e diciamo che abbiamo volentieri collaborato con Global come ADL Cobas all'organizzazione del dibattito di questa sera perché ci sembra che quello che stia accadendo in Francia sia una cosa molto importante e non solo appunto come spettatori o turisti delle lotte ma perché io ritengo che quello che succede in Francia parla a tutti noi, ci parla direttamente. Credo che la legge, la loi travail, la legge del comri francese sia parte di un modello di governance europeo che estende sostanzialmente il modello della precarietà nel lavoro e fuori del lavoro appunto a tutta la società, a tutte le categorie di lavoratori e per questo, come dire, in Italia questo passaggio l'abbiamo visto, lo stiamo vedendo, l'abbiamo vissuto e lo sperimentiamo tutti i giorni anche con le lotte che cerchiamo di fare come ADL proprio perché non è un enunciato ma è un meccanismo che poi si abbatte quotidianamente sulla vite reali di centinaia di migliaia di lavoratori. Noi abbiamo fatto in qualche modo una scommessa che appunto è quella di cercare anche di, come ADL, di superare le forme tradizionali di sindacato e di andare oltre, di essere presenti nei territori, di essere presenti anche in una miriade di lotte che vanno oltre la lotta sindacale classica per cui le lotte nei territori per i diritti, le lotte dei migranti per la casa e via dicendo. Sperimentando però anche tutta la difficoltà che spesso incontriamo nel fare queste lotte e anche registrando dei dati che sicuramente in Italia nei fatti anche diciamo non solo i sindacati istituzionali ma anche tutto il resto, quando c'è stata poi l'approvazione del Job Act è comunque un continuo peggioramento delle condizioni di messa al lavoro comunque dei nostri corpi, di tutti quanti, insomma fino a questo estremo dell'utilizzo dei voucher di cui tutti si stracciano le vesti ma poi a fronte di una difficoltà poi di contrastare realmente queste dinamiche appunto registrano il dato che effettivamente la risposta è insufficiente. Allora noi due giorni fa ad esempio abbiamo organizzato dei presidi in molte città d'Italia in occasione dello sciopero generale francese non certo per un meccanismo di solidarietà di cui non hanno certo bisogno in questo momento in Francia ma più che altro per dire che effettivamente la questione va riaperta in tutta Europa e va riaperta a partire da noi stessi, nei nostri territori e da questo punto di vista appunto credo che quello che succede in Francia sia interessante per noi proprio per questo motivo perché ci sono sicuramente delle suggestioni, una reazione probabilmente inaspettata da parte di molti che però ci parla anche di forme nuove per cui anche qui nella rappresentazione che si dà in Italia a volte sembra che esista solo la CGT quindi la classe operaia classica, il sindacato che fa gli scioperi, dall'altra sembra che invece ci sia solo Place de la République, i precari e via dicendo appunto abbiamo gli ospiti qui questa sera per cui credo che sia interessante invece capire com'è realmente questa cosa, che cosa anche questa composizione e quindi sicuramente un'eccedenza che va oltre appunto le forme classiche, probabilmente e sicuramente con tutte le contraddizioni che però da questo punto di vista può essere molto interessante per noi.